amiche ed amici del calciotto buonasera e benvenuti al w euro dove sapremo andare in scena la finale di europa league della w cup over 35 a contenderci la saranno west ham e tottenham sistema la barriera composta due uomini le portiere del tottenham occhia al destro è occasionissima per il tottenham perché poi di ribattuta ci ha provato beislac e altra occasione per gli spurs bene giudicata regolare la sua posizione bello il numero di beislac tunnel destro e tottenham in vantaggio grazie alla giocata di emanuele beislac che si libera così del suo diretto avversario e poi scarica un destro imparabile per sante usanio 1 a 0 tottenham farsi trovare impreparato e allora siamo già dall'altra parte attenzione ancora beislac 1 contro 1 super ancora il dietro avversario ancora beislac e 2 a 0 doppietta dell'attaccante in maglia numero 9 e dunque dopo 13 minuti di gioco il tottenham va sul 2 a 0 contro il west ham in questa finale tutto grazie a emanuele beislac ovviamente tottenham vantaggi due gol non cambia il proprio schieramento tattico attenzione al lancio sulla destra per votare che mette in mezzo occasione divorata per il 3 a 0 da cesaretti che grazia così sante usani fuori gioco prova a evitarlo e ci riesce ballo che entra in rigore destro e sono tre per il tottenham con il gol di gennaro vallo stavolta va in assist emanuele beislac che comunque mette la firma anche su questa rete e sono tre per il tottenham 0 per il west ham qui alla w euro dunque fine del primo tempo tra west ham e tottenham qui alla w cup con gli spurs che conducono per 3 a 0 grazie alla doppietta di beislac e al gol messo a segno dal giocatore di mare numero 11 marco cesaretti dunque secondo tempo che si pronuncia interessante e vedremo se ci sarà o meno una reazione del west ham so da falconieri punizione per il west ham occhio perché l'ha già battuta la formazione in maia blu di sorpresa con il mancino ancora di francesco con luci che soffia sul pallone sperando che lo stesso esca alla fine di va bene c'è emanuele beislac soluzione corta però attenzione perché il pallone adesso è sui piedi di penna che sfiora letteralmente il 4 a 0 occhio perché il west ham ha l'opportunità comunque di rimettere il risultato in discussione con questo calcio di punizione che fischia alla sinistra del palo della porta difesa da luci e 9 si allunga per la sfera poi si rimane di rigore beislac casista per il 4 a 0 e tripletta entra praticamente in porta col pallone e emanuele beislac dunque scrive la parola fine nel match sono 4 per il tottenham 0 per il west ham qui al w eur ma che la piazza bravo sante usanio a dirgli di no e su questa parata dell'essimo riflessione del west ham arriva il triplice fischio dunque il tottenham si aggiudica l'europa league del w cup over 35 qui alla w eur finisce 4 a 0 per il tottenham finale senza storia grazie